Dove mandare a mangiare una cosa eh, dove mandare a mangiare una cosa Qui c'è la risbara a violenza Paga, non so Spaghetto con pomodoro e bassino Silenzio, basta! Eh che cazzo Faremo il viaggio insieme, complimenti eh Sapezzare come sono vestito io per giretto Ah le piace? No, al canadino gli piacerebbe Ma insomma, questa è una coppia di campioni o una coppia di scampioni? Insomma una coppia di disperati Allora, questo sa tutto, ma come fa a sapere queste cose? Io mi piace Certe cose non ci possono dire, capito? Perché noi siamo una coppia veramente reale nella vita No, no, perché se siete a mettere vicino al finestrino E questo è il posto mio, a due E questo qua Chi se ne frega, io non respiro se non mi metto lì Non posso stare, non frega Scusi, si metto a sua porta Il personaggio di Boldi è del nord Nel film si dice fascista, secezionista E diciamo così, un po' sborrone Lui lo dice Ma non è vero Io sono buono, generoso, straordinario E soprattutto repubblicano Non si possono usare dispositivi elettronici? Non gli elettronici, è del 75 elettronico Melodio, sì Melodio Sto pacco le mezze torte L'onarsi Il personaggio di Max Tortora invece è di Roma Poverino, lui è anche un po' ingenuotto Perché innanzitutto crede molto nell'amicizia Negli abbracci Lui non si può mai far abbracciare Però dopo come gli piace Passa a abbracciare Gli piace Questo mi si attenziona Mi si attenziona Insomma, farete un altro film insieme? Mi si attenzione, sì Ma mi sono andato in Marti 30 Se tutto va bene Mi ha sentito l'altro io? E con chi andresti? Non so, con mezzo direttore di Milano Non vorre Pensa a me Non ti preoccupare, grazie Cioè lui è romano Io sono milanese Non è che io potevo fare romano Lui è milanese È giusto che sia così Ciò non toglie che da attori quasi siamo Potremmo anche provare a invertire i ruoli Possiamo provarci? Non ci proveremo Io provo a fare romano Bravo Ti dico una cosa Andiamo a mangiare una cosa Da, da, sopra che Rimandiamo No, io voglio dire tutta la cosa Parla milanese Ma non so capare Ma vada via i ciappi Ma vada via i ciappi No, ma vada via i ciappi Non so capare Un po' come Rispoli Allora, Luciano Rispoli non è milanese Ma è romano Quindi lei non è molto informata Io ho lavorato a 7.2000 A molti anni Ho fatto una versione Casa Liga del tappeto volante Lo ricordi? O forse un po' come Costanzo Bene, chi c'è? Ecco, Massimo Boldi Bene, tagliamo della coppia nuova Eh? Ci ho parlato un attimo Io faccio la De Filippi Torni stasera? Torno immediatamente, tu ho letto Subitissimo Per cena Prepara una bella minertrena Me la comandi, eh? Bene La comicità di Massimo Boldi com'è? La follia Uno, due, tre Come prima Più di prima Tamerò Nella vita La mia vita Ti danò Lui è come me Siamo due folli Due, due folli Che non seguono le regole Il regista Giulio Base Giulio Base Esattamente È impazzito Mentre giravamo Perché lui aveva scritto una cosa E noi ne dicevamo un'altra E invece quella di Max Tortora? È come un trapezio senza rete Poi c'è un compagno di viaggio Che è peggio Che è un po' da capitano Nordista Milanista Fascista Secessionista De tutto e de più Facciamo un gioco tra le coppie Più divertenti del cinema Quale scegliete? Totò e Peppino Staglio e Olio Boldi e De Sica Oppure Mattao e Lemon Mattao e Lemon Ma guarda Poco faccio hanno fatto un complimento Io non mi permetterei mai Di accostarmi a nessuno Di quelli che hai nominato No vabbè Ma è per scherzo Però Mattao e Lemon Mica male Mica male Mica male Guarda Guarda dove va I boni I boni Tutti e due boni Che cos'è che fa ridere? Qual è il segreto della comicità? La mosca Che arriva E si posa Si posa Si posa Si posa E la bagna Punti diano le spalle Benissimo Au Che cazzo ha fatto Ti la dava sentire la testa? Sì, t'aveva preso un piede Per me Per far ridere Ci vuole Prima un po' di realtà E poi uscire fuori da questa realtà In maniera anomala Magari folle Per rientrare Per far ridere Non è sufficiente avere la battuta Bisogna avere la viscomica Certo E quando ce l'hai o non ce l'hai? Perciò Noi ce l'avevo Noi ce l'avevo Ma dove va? Cosa vuol fare? Stia tranquillo Ma vi sto mai arrabbiato a me No però Si è finito Si è finito Ci penso io Insomma ormai siete quasi amici Giusto? Allora Boldi È una persona Massimo È una persona Sì ho fatto un rumore Con le cose Cosa rara Cosa molto rara Cosa molto rara Ciao tesoro Ciao 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 cipollini Come stai? Mi ho fatto vedere un altro Però lo farò Vai Vai Pronto? Che zolore Che zolore Vada sta così tranquilli Gli alieni